E' un bersaglio troppo facile, devo lasciarlo! So di essere forte, ma così è tosta! Ci sono un sacco di nemici! Kevin, ho in mente un piano! Guarda che imbroglione! Sapevo che non dovevo fidarmi di lui! Dov'è andato? Cavoli, hanno tutti delle armi speciali! Quadruplichiamo la potenza di fuoco! Oh, sì! Cosa? Kevin vuole giocare sporco! Eccola una vera potenza di fuoco! Ehi, quattro colpi, fermo! Ehi! Sapevo che avresti causato problemi! Li stai causando tu! Colpirmi ci ha tolto i punti di squadra! Guarda il tuo punteggio! Uffa! Forza, chiamifero! Cosa detesti di più? Me o perdere? Gwen! Ehi, sanna! Hai qualcosa di più potente? Sì, puoi usare questo! Forza, è proprio quello che intendevo! A riparo! Ci serve un riparo! Muovi le gambette! Quattro colpi! Gwen mi ha colpito l'Omni-Prix! Se quello non fosse un misero pezzo di ferraglia, non si sarebbe rotto per un mini-laser! Levati di mezzo, pulce! Sono un bersaglio troppo grosso! Non riesco a tornare umano! Che ti ha preso? Pensavo che oggi fossimo una squadra! Kevin? Andiamo, amico! Torna subito qui! Cosa? Oh, Kevin! Chi è il secondo più forte adesso? Nuovo primo posto! Devo concentrarmi! Senti, Kevin! Io non sopporto te e tu non sopporti me, lo sappiamo! Ma se ora vogliamo vincere, dobbiamo collaborare! Piccola tregua? Stavolta sul serio? Ah, va bene! Ma la tregua vale solo per la durata del gioco! Adesso torniamo alle cose divertenti! Sì! Sì! Venite ad affrontare 16 braccia! Da quant'è che non fai qualche esercizio di matematica? Non mi serve la matematica per giocare! Diamoci dentro! Piccola, seguimi! Seguire te? Non sei mica il leader! So cosa faccio! Stavolta fidati! Prendeteli! Grande! Siamo circondati! È ora di smammare! Siamo circondati, ma con otto pistole! Che grandioso! Sono un sacco di punti! E stiamo per raggiungere Gwen! A proposito di Gwen! Gwen! Fermo! Aspetta! Non voglio arrivare ultimo in classifica! Ecco il trofeo! Finisci ciò che hai iniziato! Niente di personale! Ma il gioco è così che funziona! Non posso credere che stia accadendo per davvero! No! Kevin, no! Ma come ti sei permesso ad avere una scena così epica? Tra noi due dovevo essere io ad avere una scena così epica! No! No! Ah, tranquillo! Volevo che Gwen mi colpisse di nuovo l'Omni-Trix per tornare normale! Volevo che!